La Regione Puglia è stata promossa nei livelli essenziali di assistenza, lo rivelano i dati del nuovo sistema di monitoraggio del Ministero della Salute per l'anno 2020. Sentiamo. La Puglia è stata promossa dal nuovo sistema di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza, LEA, del Ministero della Salute per l'anno 2020. Il sistema valuta le tre aree di assistenza, ospedale, distretto e prevenzione, attribuendo un valore tra 0 e 100 e la soglia di addempienza a 60 punti per non consentire la compensazione tra i livelli e fornire un quadro più corretto sul rispetto dei LEA. Nel periodo considerato, la Regione Pugliese ha ottenuto 66,83 punti per l'area prevenzione, 68,13 per la distrettuale e 71,73 per l'ospedaliera. I risultati del monitoraggio hanno considerato le difficoltà causate dalla pandemia, in seguito alla quale i servizi sanitari regionali hanno attivato percorsi idonei per garantire l'erogazione delle prestazioni essenziali e urgenti e nel contempo per definire le misure di contenimento del contagio nell'ambito della normativa emergenziale. Sulla base di questi criteri, il Comitato LEA ha stabilito che il monitoraggio dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'annualità 2020 venisse effettuato attraverso il calcolo degli indicatori del nuovo sistema di garanzia a scopo informativo. Ciò che ne deriva è una fotografia più chiara di quanto avviene nelle Regioni o nella pubblica amministrazione. Il nuovo sistema di garanzia NSG di erogazione dei livelli essenziali di assistenza sostituisce la cosiddetta Griglia LEA ed è lo strumento che consente di verificare, secondo le dimensioni dell'equità, dell'efficacia e della appropriatezza, che tutti i cittadini italiani ricevano le cure e le prestazioni rientranti nei LEA. È stato introdotto con il decreto ministeriale del 12 marzo 2019 ed è operativo dal 1 gennaio del 2020.